Nel comune di San Giovanni Appiro è stato siglato un importante protocollo tra Conza, Caato, Ente Comunale e Parco, per mezzo del quale hanno assunto l'impegno di realizzare l'impianto di depurazione a scario. L'obiettivo, condiviso e sostenuto anche dalla regione Campania, è quello di dotare, soprattutto il territorio del parco, di un sistema fognario e depurativo, diffuso ed efficiente. Infatti, molto spesso il territorio versa in problemi quali la scarsa o la completa assenza di manutenzione dei comuni, sugli impianti di depurazione. Ciò comporta di conseguenza la dispersione a mare di acque non trattate. All'incontro erano presenti il presidente Maione, il presidente del Parco Nazionale del Cilento Tommaso Pellegrino e il sindaco di San Giovanni Appiro, Ferdinando Palazzo. Abbiamo il mare tra i più belli e politi del mondo, non possiamo accettare e permettere che non ci siano i depuratori, spiega il presidente Pellegrino. L'avvio di questo importante percorso è possibile grazie a un sindaco, Ferdinando Palazzo, e ad un'amministrazione lungimirante, sensibile e di spessore, grazie al CONSAC guidata da un presidente, Genaro Maione, capace e concreto, alla provincia di Salerno con il presidente Canfora e il consigliere Pasquale Sorrentino, al quale opportunatamente è stata conferita la delega all'ambiente, grazie alla regione Campania con il presidente De Luca e il vicepresidente Bonavitacola, che hanno posto la depurazione, conclude Pellegrino, tra le priorità degli interventi da realizzare.